Noi armeni abbiamo un messaggio importante per voi. I media non mostrano il quadro completo del cambiamento climatico. Cosa sta accadendo fuori dalla nostra finestra? Noi armeni ci rivolgiamo a tutti gli abitanti del pianeta. I disastri climatici sono in rapido aumento in tutto il mondo. La potenza della distruzione è aumentata a dismisura. Gli scienziati concordano sul fatto che ci restano 4-6 anni di vita relativamente tranquilla. Armenia. Il nostro paese ha già vissuto una terribile catastrofe, le cui conseguenze si fanno sentire ancora oggi. Vogliamo davvero che la storia si ripeta? Sappiamo che questa volta sarà molto peggiore e più spaventosa. Cosa ti aspetta? Nonostante la complessità della situazione, c'è una soluzione. Tutto dipende da te. Non mancare Caleidoscopio dei fatti Armenia. Minacce climatiche Realizzato per iniziativa dei partecipanti al Movimento Internazionale Sociale all'ATRA Iniziativa Grazie a tutti. Che shuta?